Questa è la scura di Lanzo a Germagnano, dove c'è praticamente la famosa deviazione, poi c'è la cascata. Qua una volta era una zona molto ricca di pesce, perché è zona riserva, ormai è chiusa da un po' di anni. Qui sono un po' più a valle, rispetto alla diga di sbarramento, e questa è l'acqua che è rimasta in questa zona. Pensavo peggio, però probabilmente qualcosa arriva ancora su dai monti. Qui qualche anno fa i bagnanti non potevano neanche venire. Essendo zona riserva potevano solo venire i pescatori. Adesso ovviamente non hanno neanche più rimesso nulla ed è tutto fermo da qualche anno, da pre-Covid. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.